Nono risultato utile consecutivo, terza vittoria nelle ultime tre giornate, terzo posto in classifica alle spalle dell'Orse dell'Aurora Seriate. Vola l'Adelese di Roberto Scarpellini che batte 3 a 2 il palazzolo nel match clou della quattordicesima di andata. Si conferma la squadra più in palla tra le Bresciane di eccellenza. Eppure partono bene gli ospiti, siamo nei primi minuti di gioco. Toma sfiora il palo alla sinistra di Bertoni con questo mancino basso e velenoso che sibila alla sinistra del portiere dell'Aurora. Ancora palazzolo Donati, manca incredibilmente il colpo di testa da due passi occasione più che ghiotta. Al dodicesimo il vantaggio della squadra ospite, si fa male da solo alla dell'Aurora dell'Aurora. Bertoni rinvia, poi sbaglia clamorosamente il tempo dell'uscita, si fa scavalcare dal pallone, Giordano non ci pensa due volte, la mette in fondo al sacco. 1-0 palazzolo, sono passati 12 minuti ma 8 minuti dopo l'Adelese è già in partita e anche il palazzolo si fa male da solo Gobbi, sbaglia il tempo dello stacco, infila il pallone nella porta sbagliata, davvero clamoroso l'autogol del difensore palazzolese. Vediamo lo stacco con la nuca a sorprendere tutti, anticipare compagni e portiere, ventesimo minuto, 1-1, adesso l'Adelese ci crede, spinge Lorenzo Paghera, uno dei migliori, mette in mezzo, non ci arriva nessuno, poi Galbignani spara alle stelle, ventisettesimo, l'Adelese raddoppia il colpo di testa di Bidese che colpisce la traversa e poi da due passi Tolotti in tuffo, beccandosi anche una scarpata in faccia, la mette dentro per il gol del sorpasso, rivediamo Bidese, la solita frustata di testa, la traversa, dice no e poi Tolotti, l'ex è bravissimo a tuffarsi e spingere il pallone in fondo al sacco, 2-1 Adelese, 5 minuti dopo, minuto numero 32, la Adelese scappa, il 3-1 lo realizza Galbignani, il colpo di testa di Piovanelli, il numero 10, Rossobu difende il pallone, salta un avversario, poi scarica in fondo al sacco la palla che vale il tris Adelese, rivediamo il colpo di testa di Piovanelli, Galbignani controlla, poi evita un avversario e di piatto destro, sorprende Goffi che non può nulla, 3-1 Adelese, sono passati 32 minuti nel finale, ancora gli uomini di Scarpellini pericolosi, se ne va via Luca Paghera, anche lui molto attivo come al solito, ma poi viene chiuso da Oberti, episodio da Moviola prima del riposo in area Adelese, Vitali affronta così Baldassare lo stand, proteste Palazzolesi, l'arbitro dice che si può tranquillamente proseguire, assegna il calcio d'angolo. Nella ripresa inizia a piovere, anzi a nevischiare sul comunale di Dellola, Adelese cambia maglietta, maglietta rosso-blu e si parte pareggiando il conto degli episodi da Moviola, viene steso così Luca Paghera in area da Negrisoli, l'arbitro lo monisce per una simulazione in verità un po' ingenerosa. Ancora Adelese, Galbignani in mezzo, testa di Piovanelli, bloccata a terra la palla da Goffi, lo spunto di Lorenzo Paghera, il solito Lorenzo Paghera, poi il sinistro che non trova la porta ancora Adelese in avanti, qui è Luca Paghera che scivola, mette in mezzo il pallone, respinto controllato da Piovanelli, la palla scaricata fuori per Bidese che cerca il destro di giustezza non trova la porta, Lex Castegnato sul fronte opposto, la punizione di Rocca, bella la traiettoria non inquadra lo specchio della porta, poi il tiro cross pericoloso di Baldassare che attraversa tutta l'area, non trova nessuno pronto a deviare in rete, in pieno recupero minuto numero 50 del secondo tempo, Giordano fa 3 a 2 ma ormai è davvero troppo tardi, la partita è finita, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, tre punti alla Adelese, il palazzolo esce comunque a testa alta ma bissa la sconfitta della settimana scorsa con il Luluvolera e si conferma indigesto ai derby mentre l'Adelese vola e agguanta il terzo posto in classifica in solitaria a meno uno dall'Orsa. È una signora squadra, ci ha messo in grossa difficoltà e oltretutto anche sul 3 a 1 non hanno mai mollato, ci ha messo abbastanza le strette però hanno fatto un primo tempo strepitoso dopo l'episodio del gol su cui siamo andati sotto, è stato un incidente, abbiamo avuto mezz'ora di ottima fattura. Dopo la terza vittoria consecutiva diciamo si fa interessante il campionato anche se sembra segnato dal seriato, no? Ma sì, il seriato è una squadra di un altro livello e lasciamo andare, a noi interessa stare nel gruppo che poi cercherà di giocarsi i playoff, l'Adelese non li ha mai fatti, ci vogliamo, ci creiamo fino in fondo. Ci tengo a dire che oggi con fuori giocatori importanti come Manenti, Pedroni, Argenteri o Gorlani abbiamo giocato contro una squadra forte come il Palazzolo dal primo minuto con 5 giovani, poi con 6, poi con 7 e quindi diciamo che il grosso merito va dato anche oltre ai giocatori perché sono loro che vanno in campo e vincono le partite, al lavoro del direttore sportivo Guarneri che mi ha lavorato benissimo quest'estate, posso attingere ai giovani che sono fondamentali in questa categoria perché sono 4, con fiducia perché mi danno sempre buone risposte. Enrico Guarneri, un mito del calcio dilettantistico, Bresciano oggi è direttore sportivo dell'Adelese, diceva Roberto Scarpellini che hai costruito quest'estate un'ottima squadra con giovani di valore, come hai fatto? Ma no, 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 si cerca di fare il proprio meglio, no diciamo che abbiamo trovato un buon gruppo, guarda abbiamo potuto lavorare da due anni consecutivamente assieme, io e il mister e sinceramente ho avuto anche una società come l'Adelese disponibile e quindi secondo me è stato un buon vantaggio, abbiamo potuto lavorare sui giocatori l'anno scorso e questo indubbiamente ci ha avuto moltevoli vantaggi. Comunque è una buona dell'Adelese questa, dove può arrivare secondo te? Ma può arrivare non lo so, se manteniamo l'umiltà che è la prima cosa secondo me che fa un giocatore bravo a quello male, meno bravo, ma io credo che il campionato è ancora aperto tutto, certo i seriati è sicuramente uno squadrone e può solo loro secondo me perdere, anche se ripetono il calcio, mai dire mai.